ciao amici grazie dei commenti che mi avete scritto vi sono mancata grazie ma non pensavate mica che me ne fossi andata sono sempre qui massimo dove hai finita la community era preoccupatissima squaletto pensava che ti avessero hackerato il canale con le fake news anche io avevo paura che non mi avresti fatto fare mai più nessun video no 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 tutto regolare niente fake news ogni video che trovate sul mio canale è curato da me personalmente e ho sempre tante cose da dirvi oggi per esempio voglio rivelarvi quali sono i veri sette pilastri fondamentali della salute aspetta prima vogliamo sapere ma perché non ti sei più fatta vedere ma ogni tanto bisogna fare qualcosa di diverso tutto qui le video schede che sto facendo sono molto dirette sono veloci danno subito i consigli pratici e i trucchetti da fare con le cose che abbiamo tutti a casa ci sono molti video con delle fake news anche di salute naturale attenzione siccome oggi si sente tutto è il contrario di tutto in molti mi avete chiesto un parere su informazioni contrastanti e in queste video schede ci sono anche le risposte a questi dubbi così avete sempre più strumenti sicuri per essere trendy e sani per voi e per condividerli con gli amici che giustamente non si fidano delle fake news e vogliono vederci chiaro allora torni da noi ma sono già tornata non mi vedi in realtà non me ne sono mai andata comunque se proprio proprio mi prende la nostalgia di simona avete più di 800 video dove parlo spiego racconto ce n'è per tutti i gusti e per tutte le esigenze ok sono più tranquilla perché se sparivi tu sparivo anch'io non posso fare i video da pubblicando da sola dai veniamo ai sette pilastri fondamentali della salute sono interessantissimi non si può più fare finta di niente e non avere cura di sé per questi aspetti sono l'ultima frontiera della scienza e sono anche ciò di cui parlo da sempre nella mia professione di naturopata e da anni nel mio canale come potete vedere andando indietro nei miei video ecco allora i sette pilastri della salute con i miei sette motti che vi aiutano a sapere sempre cosa fare mangia cibi giusti non contare le calorie ma i nutrienti fai esercizio fisico costante è meglio che estenuante dormi bene il sonno è la ricarica delle batterie prendi gli integratori fanno bene dentro e si vede fuori gestisci lo stress se non puoi evitarlo devi controbilanciarlo fai meditazione coccola l'anima non solo il corpo trova la community giusta e condividi la tua passione per il benessere noi siamo la community giusta quella trendy e sana anche squaletto lo dice sempre allora questo video è dedicato a tutta la nostra community con un bacio speciale a barbara teresa tiziano la mia valentina a luca giada veronica marco e tutti gli altri un saluto speciale a tutti gli amici di vecchia e nuova data grazie veramente di cuore per i commenti le condivisioni le iscrizioni al canale andiamo avanti così e facciamo diventare questa community la più forte la più trendy e sana del web io ho fiducia in voi e vi aspetto al prossimo video con me e con le mie schede ci sono sempre io comunque anche noi ci saremo ci saremo ma certo ci saremo tutti nel frattempo sempre trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao